Quanti cristiani, col suo esempio, allontanano la gente, con la sua incoerenza, con la propria incoerenza. L'incoerenza dei cristiani è una delle arme più facili che è il diavolo per indebolire il popolo di Dio e per allontanare il popolo di Dio dal Signore. Dire una cosa e fare un'altra.